Il primo commento è che sembra quasi che l'emozione sia più grande anche della prima volta, forse perché siamo fatti un po' più grandi e allora si riesce a metabolizzare meglio e a capire meglio il grande risultato che abbiamo fatto. Non era facile, non era affatto scontato perché comunque è per la terza volta ma l'affetto della comunità di Vigiano è stato grande, è stato davvero enorme, è stato più grande di anche qualche cattiveria di troppo che purtroppo abbiamo subito sui social e che nell'ambito dei comizi, documenti alla mano abbiamo detto com'era la realtà e le cose oggettive come stavano ma al netto di questo felicissimi.